Domani, domenica 5 maggio, si svolgerà il primo trofeo Zenit, iniziativa a scopo benefico organizzata dalla nuova Andria Calcio, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza al centro Zenit di Andria, che dal 1999 si occupa delle persone diversamente abili. Vediamo. Io devo ringraziare Vincenzo, a cui ci lega una conoscenza e un'amicizia di vecchia data, e quindi quando lui mi ha chiamato perché aveva intenzione di organizzare questo torneo, che poi la cosa bella è chiamato anche il primo trofeo Zenit, è stata per noi veramente una notizia molto molto bella. Noi siamo una realtà associativa, ormai al suo ventesimo anno di attività nel territorio di Andria, non solo, perché da noi confluiscono ragazzi anche di altre città, Barletta, Trani, in passato anche Canosa e Corato. Noi ci occupiamo in modo particolare, abbiamo un laboratorio teatrale e in più organizziamo per i ragazzi dei viaggi. I nostri viaggi sono un po' particolari, negli anni siamo stati in Kenya, nello Zanzibar, a Dubai, quest'anno andremo a Bangkok. E quindi naturalmente questo tipo di iniziative, con i proventi che verranno ricavati, ci daranno la possibilità di aumentare l'offerta formativa, e quindi di dare la possibilità a più ragazzi di poter fare queste attività. Tenete conto che noi quando facciamo il teatro ci spostiamo, siamo in tour, e quindi i costi di spostamenti vari, eccetera, sono tutto a carico del centro, perché noi come associazione di volontariato quando ci sibiamo non chiediamo mai nulla. E quindi tutto viene fatto con le nostre forze. Oltretutto tutto questo immobile, che è un immobile confiscato, di cui oggi si parla tantissimo, è un immobile che è stato ristrutturato da un privato, che viene gestito da 14 anni da noi, senza alcun sommenzionamento da parte dell'istituzione pubblica. Quindi, questo in estrema sintesi, io devo ringraziare Vincenzo, perché sicuramente i proventi di domenica andranno e verranno utilizzati per aumentare la proposta formativa nei confronti dei nostri ragazzi specialmente abili. L'idea è nata semplicemente dall'individuare il destinatario di questo progetto, che per quest'anno 2019 è stato individuato nei confronti del centro Zenit. Come dicevo prima, non è la prima volta che la Nuova Andria si trova di fronte a questi progetti sociali, anche perché noi con un nostro progetto interno, che si chiama Un calcio per tutti, andiamo a fare attività lì dove magari qualcuno evita di farla. Quindi diamo una mano a chi non ha la possibilità di permettersi una retta mensile con i più piccolini e quindi, in questo senso, sfondiamo una porta aperta, collaborando col centro Zenit, che, come diceva giustamente Antonello, è una realtà ormai consolidata sul territorio e di cui noi sentiamo parlare tutti i giorni. Le realtà che abbiamo coinvolto, che vengono da più parti dalla nostra provincia, Bari, Batte e Foggia, è realtà che hanno subito accettato di partecipare quando hanno saputo che lo scopo di questo torneo era solo ed esclusivamente benefico, non essendoci una realtà, un qualcosa che avesse a che fare dal punto di vista commerciale, è stato facile, si è sfondato una porta aperta. Tant'è vero che io approfitto anche per ringraziare anche il centro sportivo Sport Village, Giax Giulio Cesare, nella persona di Tania Zenga, che per l'utilizzo della struttura ci ha realmente chiesto un contributo, quindi non c'è stata tariffa, non c'è stato costo fisso, però in questo modo noi daremo la possibilità a tanti bambini che domenica si avvicenderanno sul centro sportivo Sport Village di divertirsi per una giornata sana, facendo del bene.